Musica TG 12 edizione pomeriggio ben trovati, edizione che apriamo parlando di sanità. L'azienda per la tutela della salute ha annunciato questa mattina in conferenza stampa l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario. 1.200 sono i dipendenti coinvolti, mentre sul fronte al riordino della rete ospedaliera la mobilitazione di questa mattina di migliaia di persone che sono scese in piazza per manifestare contro la chiusura dei piccoli ospedali. Vediamo il servizio. Saranno 1.200 i dipendenti che verranno stabilizzati in ATS, l'annuncio questa mattina dal direttore generale Fulvio Moirano e dal direttore amministrativo Stefano Lorusso nel corso di una conferenza stampa. L'azienda per la tutela della salute ha adottato le procedure di stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale e ha avviato il processo di mobilità a carattere regionale ed interregionale. Si tratta di un percorso che porterà l'assunzione di 827 del comparto e 373 della dirigenza medica, come stabilito nel piano di fabbisogno aziendale. L'avvio delle procedure di stabilizzazione e mobilità avviene dopo tre anni di blocco del turnover e riguarda 447 infermieri, 373 medici e 117 operatori sociosanitari, più altre figure specializzate necessarie sia per il potenziamento dei servizi sanitari erogati negli ospedali e sul territorio, sia per la riduzione delle liste d'attesa. La stabilizzazione del personale precario è in linea con quanto indicato dal decreto legislativo sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, che prevede la riduzione dei contratti a termine e la valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale in servizio a tempo determinato. Le procedure di mobilità, invece, consentiranno all'azienda di attrarre sul territorio regionale i medici e gli infermieri che attualmente lavorano in altre regioni d'Italia e che per ragioni personali e professionali sceglieranno di tornare a vivere in Sardegna. Inoltre, l'ATS Sardegna ha adottato una delibera dedicata esclusivamente all'assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie tutelate della legge numero 68 del 99. L'accordo è stato siglato nei giorni scorsi in collaborazione con l'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro. Buone notizie, dunque, per i dipendenti, ma la sanità sarda oggi vive un doppio sentimento. Infatti, sul fronte del riordino della rete ospedaliera, questa mattina una grande immobilitazione di migliaia di persone che sono scese in piazza per manifestare contro l'abbandono dei piccoli ospedali come quelli di Muravera, Isili, Iglesias e Sorgono. Ed ora la cronaca che ci porta a Sassari. Panico nella notte in via Sorso per l'incendio appiccato all'interno del circolo Le Iene. Ingenti danni, evacuati per il fumo acre, gli appartamenti dello stabile. Vediamo. Un incendio di origine dolosa distrutto ieri sera, poco prima della mezzanotte, il circolo Le Iene in via Sorso. Le fiamme sono state appiccate in diversi punti della sala. Da un lato hanno utilizzato un bidone della spazzatura e nella parte opposta hanno accumulato carta e altro materiale facilmente incendiabile a cui hanno dato fuoco, con l'evidente intento di distruggere completamente il locale notturno. L'ultima festa si era svolta una settimana fa nel weekend. Ingenti danni causati dal fumo che ha invaso anche gli appartamenti dello stabile che sono stati evacuati dai vigili del fuoco, intervenuti in forza per domare l'incendio. Sul posto anche una pattuglia della polizia che ha avviato le indagini del caso per capire se il titolare avesse ricevuto minacce e se avessi avuto sentore in qualche modo di essere nel mirino degli incendiari. Sparisce dallo skyline di Porto Torres la ciminiera di Fiume Santo. Alle 17 in punto di ieri un boato, dovuto alla carica di dinamite e il gigante di 150 metri in calcestruzzo, è piombato al suolo. Ci racconta tutto Sandra Sanna. Sono bastati 12 secondi per cancellare dallo skyline di Fiume Santo 35 anni di storia nell'area industriale di Porto Torres. Il boato della carica di esplosivo è disparita, una delle torri, simbolo della centrale elettrica in disuso da almeno 5 anni. Alle 17 in punto, dopo aver inumidito il terreno con cannoni sparaacqua e 150 metri di ciminiera, si sono accasciati al suolo in un polverone che si è dissolto in pochi minuti. Non altrettanto si può dire delle polemiche che hanno preceduto e accompagnato le operazioni di demolizione da parte di esponenti dei 5 Stelle e di alcuni ambientalisti molto attivi sui social e contrario all'abbattimento. Ma l'ARPAS assicura che sono state rispettate tutte le prescrizioni. L'area è stata evacuata e messa in sicurezza nel raggio di 300 metri. Sul posto la polizia locale di Sassere che ci ha anche fornito le suggestive immagini girate col drone. Uno spettacolo inusuale che ha richiamato centinaia di curiosi, tutti armati di cellulare per filmare un pezzo di storia industriale del nord Sardegna che ormai non esiste più. Con la manifestazione CART in piazza l'amministrazione comunale ha coinvolto 300 bambini in un progetto teso all'educazione delle norme fondamentali del codice stradale. Vediamo. La nuova piazza Dettori circuito per i piccoli kart elettrici. Circa 300 bambini oggi e domani coinvolti nella manifestazione CART in piazza, il rispetto delle regole salva la vita. Organizzata dall'ACI con il patrocinio del comune di Sassere, un'occasione per i più piccoli di essere protagonisti delle attività che affiancano il Rally d'Italia 2018. Il circuito è stato inaugurato dal sindaco Nicola Sanna, dall'assessore alla mobilità Antonio Più. L'educazione alla sicurezza stradale ha coinvolto le classi dell'istituto comprensivo Latte Dolce, un'iniziativa articolata in due fasi, una teorica sull'insegnamento delle nozioni del codice della strada e una pratica di guida dei piccoli kart elettrici. A tutti i partecipanti un attestato personalizzato con omnia ad ambasciatore della sicurezza. Abbiamo voluto che la manifestazione fosse ospitata fuori dal centro per coinvolgere le scuole delle periferie dell'agro, ha dichiarato l'assessore Più. Grazie alla TP che ha messo a disposizione Scolabus per il trasporto, gli alunni possono vivere due giorni in una delle piazze più belle della città. La nuova piazza dei Tori con i lavori di riqualificazione è il simbolo dell'attenzione e delle cure che questa amministrazione ha per le periferie urbane, ha aggiunto il sindaco Nicola Sanna. Visita dell'ambasciatore slovacco in Italia Jan Sot. Ieri a Stintino, all'isola della Sinara, siamo qui anche con questa mostra per ricordare i momenti della storia che uniscono le nostre due nazioni. Vi ringrazio per il lavoro e l'impegno nella salvaguardia della memoria che è fondamentale per ricordare il passato e costruire il nostro futuro, ha commentato l'ambasciatore che ha chiuso la mostra itinerante sul centenario della grande guerra. L'ambasciatore slovacco in Italia Jan Sot, ieri in visita a Stintino e sull'isola dell'Asinara, in occasione della chiusura della mostra itinerante sul centenario della grande guerra, che dal 15 maggio ha trovato ospitalità nelle sale del Museo delle Tonnare. 15 pannelli fotografici ripercorrono la storia della cecoslovachia con soldati ciechi e slovacchi al fronte in Italia durante il primo conflitto mondiale. La mostra, curata da Gabriela Dudekova dell'Istituto di Storia dell'Accademia Slovacca delle Scienze, in collaborazione con l'archivio del Club di Storia Militare Beskidi, ha ottenuto l'altro patronato del Ministero degli Affari Estri della Repubblica Slovacca. Il comune di Stintino ha inserito l'esposizione nel programma di eventi iniziati nel 2013 con il progetto Commemorazioni di Pace, i profughi e i prigionieri nell'isola dell'Asinara. In quegli anni del primo conflitto mondiale, insieme ai prigionieri astro-ungarici, furono deportati all'Asinara anche ciechi e slovacchi e di questi, ha ricordato lo stesso ambasciatore slovaco, circa 3.200 sono sopravvissuti. Sull'isola si ritrovarono 23.000 persone, ha sottolineato il sindaco di Stintino Antonio Diana. Un messaggio di pace e un invito a mantenere viva la memoria e a rafforzare i rapporti tra i popoli sono stati condivisi dal prefetto Giuseppe Marani, dal generale Giovanni Domenico Pintus, comandante del comando militare Esercito Sardegna, dal delegato del rettore dell'Università di Sassari, Luciano Gutierrez. Alla cerimonia anche i sindaci di Sassari, Nicola Sanna e di Porto Torres, Sean Wheeler, e la curatrice del MUT, Esmeralda Ugi. Nel pomeriggio l'ambasciatore ha fatto visita all'Asinara, etapa all'ossario di Campoperdu, dove con l'arcivescovo di Sassari, Monsignor Gianfranco Saba e le autorità civili e militari, ha deposto una corona di fiori in memoria delle oltre 6.000 persone che tra il 1915-1918 morirono nei campi allestiti sull'isola dell'Asinara. Nuovo casting in Sardegna per una produzione cinematografica del regista Dado Martino. Dopo i successi di I Wanna Be The Testimonial, Sei tutto quello che voglio e 8 minuti, attualmente in programmazione sui grandi schermi, si cercano ora le comparse per il nuovo film che verrà girato nel mese di luglio e settembre in Sardegna. Protagonisti e comparse dovranno essere di residenza e provenienza a Sard, la ricerca è rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni, attrici dai 25 ai 30 anni, attori tra i 30 e i 35 anni e uomini sui 50. Chiunque fosse interessato può inviare la propria candidatura a produzionechiocciolacouship.it Restiamo sul tema attori, applausi e consensi per i giovani, attori della scuola di teatro, La Volpe Bianca, che ieri sera al Teatro Civico hanno messo in scena la loro prima rappresentazione. Gli attori in erba hanno meno di 17 anni. I Corribichesso. Buona la prima per gli allievi della scuola di teatro La Volpe Bianca, che ieri sera hanno messo in scena il loro primo lavoro. Lo strano caso della signora Wellington, interamente prodotto, scritto e sceneggiato da Sasha Solinas, Giorgia Vicentelli, Enrico Corrias, Anna Spiri, Stefano Fois, Lorenzo Chighine, Emma Sanna, Andrea Piga e Antonio Loriga. Una comedy in due atti che ha suscitato l'irarità degli spettatori. Grande soddisfazione per il regista Andrea De Sì, che dirige la scuola di teatro e arti creative La Volpe Bianca. Aperta un corso triennale per aspiranti attori dagli 11 ai 17 anni e strutturata in moduli, lavoro dell'attore su se stesso, tecniche di improvvisazione strutturata, teatro-danza, storia del teatro e della cinematografia. Gli allievi vengono accompagnati dalla conoscenza del linguaggio teatrale, da docenti per ciascun modulo e sistemi innovatori che permettono la crescita dei ragazzi attraverso il piano fisico ed emozionale. Si parte alla composizione del canovaccio, partendo semplicemente da un'idea, per arrivare a una vera e propria narrazione, che unita al lavoro sul corpo e alle emozioni, accompagna i giovani attori e attrici al risultato finale, che è lo spettacolo. La risposta del pubblico ieri sera ha sottolineato che la strada è quella giusta. Ci fermiamo ora per un breve break pubblicitario. Torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. Torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Torniamo in studio con la pagina sportiva. La ormai consueto raduno annuale della Solaris Cup che si svolge a Porto Rotondo ogni anno si è conclusa domenica scorsa, dove oltre 300 persone si sono riunite per 5 giorni per condividere insieme la grande passione per la vela. Sentiamo. Domenica 3 giugno si è conclusa la Solaris Cup, organizzata dallo Yachting Club Porto Rotondo, in collaborazione con la Solaris Yacht. All'evento hanno partecipato 35 imbarcazioni tra i 37 e i 76 piedi di lunghezza, giunte in Sardegna da 6 nazioni europee, Italia, Germania, Svizzera, Austria, Gran Bretagna e Spagna. Ai 6 quest'anno si sono giunti la Cina e l'Australia, per sfidarsi in due regate molto tecniche e avvincenti. La prima, sabato, con un percorso di 16 miglia e un vento da est-sud-est, sui 7 e 9 nodi, ha favorito lo svolgimento della regata in maniera molto tranquilla. Domenica, invece, fin dal primo mattino si è alzato un vento da est-sud-est intorno ai 12 nodi, che ha rinforzato fine 18-20 nodi in prossimità delle isole Nibani. Nella categoria Open è stato il Solaris 42 a chiudere qualunque speranza di vincita agli altri due che hanno cercato di contendergli il podio. A sbaragliare tutti nella categoria Corinthian ci ha pensato The Italian Job 4, che ha concluso le due giornate con due meritati primi posti in tempo compensato. Ed ora la quarta di copertina, la vignetta di Cesare Carta. Hanno dato fuoco alle iene. Eh, non c'è nulla da ridenso. Finisce qua questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora. Io mi fermo qui, vi ricordo, che potrete rivedere questo TG sul nostro sito, canale12.it, e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi.tv.tv. Inoltre, se siete in possesso di un decoder sky, ci trovate al canale 5012. Potete seguirci anche sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. L'appuntamento con la prossima edizione del nostro telegiornale è come sempre questa serale 19.45. E dopo l'edizione serale, l'appuntamento consueto del giovedì con Polis. Tutto quanto fa politica, parleremo della situazione del commercio a Sassari, partendo dall'attualità, i 124 licenziamenti annunciati dal gruppo Sigma. Seguitelo perché sarà davvero molto interessante. Io vi aspetto e vi auguro un buon prossimo momento di pomeriggio. Arrivederci. Grazie.